Da oggi la seccatura di fermarsi a un semaforo rosso diventa quasi un piacere se lo stop ti viene imposto al sottopassaggio di Via Lamarca. Ci si può prendere qualche istante per essere abbagliati dall'ondata di colori e simbologie accattivanti. Se poi sei pure un fan dei Camillas, diventa fortissima la tentazione di non ripartire al semaforo verde per soffermarsi a scandagliare sulla parete i tanti indizi di note e testi di Zagor e Ruben. Fra centro, mare e ferrovia il sottopassaggio di Via Lamarca diventa ora una grande opera di street art in onore alle canzoni e alla produzione artistica del gruppo musicale sui generis tanto caro alla città di Pesaro e alla memoria del compianto Mirko Bertuccioli H. Zagor Camillas scomparso ad aprile 2020. Al taglio del nastro del murale presente, oltre al sindaco Matteo Ricci, anche la commossa mamma di Mirko Bertuccioli e il partner artistico di una vita Vittorio Ondedei H. Ruben Camillas. È stato fatto nella mia più completa non conoscenza e questa è la cosa che è ancora più bella perché praticamente oggi sono qua a vedere una cosa per la prima volta, non passo per questa strada da settimane e settimane facendo dei giri lunghissimi, quindi anche è una cosa che sul corpo sento come fatica, con la bici devo passare lontanissimo perché volevo la sorpresa totale e la cosa più bella poi appunto, che dopo me lo godrò meglio, è anche l'idea di essere, di finire su una parete, di essere attaccati alla città, un tatuaggio sulla città di Pesaro. Quindi adesso Camillas e Mirko che in questi rovi che vanno di qua e di là sul muro siamo una specie adesso di tatuaggio e quindi sta cosa qui mi piace pensare, non dirò sempre, hanno fatto un murale, se no dirò, sai che hanno fatto un tatuaggio su Pesaro, il tatuaggio dei Camillas? È un po' questo. Il murale è stato realizzato dai pesaresi Francesco Zanotti e Claudio Tacchi che hanno lavorato all'opera in piena notte con la concessione della chiusura del sottopassaggio fra le 23 di sera e le 5 di mattina. L'idea è nata parlando con Massi Santini appunto di poter riqualificare i cavalcavia di Pesaro, diciamo che è un progetto su cui stavamo lavorando da tempo e l'idea appunto di dedicare proprio a Camillas e a Mirko, questo principalmente è venuta un po' a tutti insieme unanimamente perché diciamo che Mirko era un amico prima di tutto. Quindi ecco, è nato tutto da chiacchiere ma si potrebbe fare, non si potrebbe fare fino a arrivare al punto in cui appunto dopo una faticata siamo riusciti a portarlo a termine. È il magico, il meraviglioso mondo dei Camillas, quindi sono tanti elementi che si possono trovare all'interno delle loro canzoni. Non svelo quali canzoni sono né quali elementi sono perché ci piacerebbe che i più curiosi li cercassero da soli e li svelassero magari in qualche pagina di Facebook dedicata. Non solo un omaggio ai Camillas ma Via Lamarca è anche il primo sottopasso urbano riqualificato a tema di street art che il comune di Pesaro ha messo in agenda assieme ad altri analoghi luoghi di transito cittadini. Abbiamo voluto improntare questo progetto sulla riqualificazione dei luoghi strategici urbani che erano un pochino caduti in degrado, come in tante città i sottopassi sono dei punti nevralgici molto delicati che purtroppo si prestano molte volte anche ad essere degradati con tag, con bombolette eccetera eccetera. Con il sindaco abbiamo voluto ragionare e preparare questo progetto che si chiama Sottopassaggi d'arte urbana e abbiamo voluto coinvolgere tanti artisti non solo locali ma anche che vengono da fuori città per poter regalare come vedete il colore e la voglia di sorridere in questo momento soprattutto a tutta la città nonostante comunque sia la cosa importante quella che abbiamo riqualificato dei posti che prima erano comunque sia molto degradati. Detto questo il progetto si articola in sei fasi e nel 2021 saranno tre i sottopassi recuperati quindi questo di via Lamarca, abbiamo iniziato ieri quello di Loreto in direzione centro Montegranaro e poi a settembre sarà il turno del sottopasso di via Milano. Per il prossimo anno stiamo progettando la riqualificazione dei sottopassi di San Decenzio, di via Gradara e per ultimo il sottopasso di Loreto quello però che da Montegranaro va verso il centro.